buongiorno cari amici e ben ritrovati qui sul nostro canale anima ribelle ecco qua accettiamo i cookie come c'è scritto qui nell'ambito della chat perché altrimenti ok non mi fa arrivare le vostre chat sempre che ce ne siano e io spero sempre che a un certo punto incomincerà incominciate a collegarvi su questo canale la domenica mattina alle 11 poi ripeto se qualche uno di voi mi chatta anche sul punto sul canale su twitch che è un orario un po scomodo eccetera me ne dice altri e siamo sempre qui per trovare un punto d'incontro un accordo allora riprendiamo dove eravamo rimasti la volta scorsa questo è il nostro terzo appuntamento e sto pensando di rendere questa trasmissione più appetibile ecco ma mi dovete dire anche voi ad esempio se ci fosse la possibilità di essere collegati di avere collegamenti in video anche con altre persone magari giovani come voi e potere iniziare a dialogare con esse no quindi fare delle domande e avere anche delle risposte da persone giovani perché io sto facendo queste trasmissioni per riuscire ad attirare voi giovani lo so che è un'impresa ardua soprattutto per una persona che non è più giovane di età ma giovane di spirito ma voi poi probabilmente il giovane di spirito se non mi conoscete bene in persona e in immagine in video non ve ne fate un granché e e dunque sto pensando che potere avere in collegamento degli altri giovani ragazzi e ragazze che sono come voi che la pensano come voi può aiutarvi a partecipare insomma è tutto questo no e poi anche ad avere il punto di vista di un giovane che per quanto io mi sforzi non potrò mai avere perché sì mi devo solo ricordare di quando sono stato giovane anch'io e siccome vi ho detto che sono state un giovane molto 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 ribelle sappiate che io posso comprendere tutti i vostri disagi e anche tutte le vostre intemperanze ma anche le cose positive che fate quindi soprattutto sto cercando di tirar fuori da dentro di voi il meglio e quindi i vostri talenti le vostre capacità perché solo diventando creativi e potendole esprimere starete meglio sicuramente meglio va bene allora ritorniamo dove eravamo rimasti allora vediamo un po se riesco a mettere l'immagine ecco qua o vedete che tra l'altro ho anche preparato una immagine un po più bella graficamente cioè gli ho messo i simboli in alto per ciascuno dei sette valori cioè dei sette archetipi che ormai avete imparato a comprendere che cosa sono cioè le vibrazioni più alte delle sette funzioni della vita la prima funzione è quella della volontà la seconda quella dell'amore la terza quella dell'intelligenza la quarta quella dell'armonia la quinta quella della conoscenza la sesta quella dell'ideale e la settima quella dell'ordine quindi mettendo in fila queste sette funzioni che sono anche i sette aspetti principali della vita non si fa niente senza la volontà l'amore l'intelligenza l'armonia la conoscenza l'ideale l'ordine l'ordine inteso proprio come ritmo se non si ha ritmo non si riesce a danzare che cosa la danza della vita quindi dobbiamo mettere in fila questi sette aspetti queste sette funzioni queste sette qualità o valori della vita affinché possiamo danzare senza inciampare la comprendete la metafora cioè una vita che va liscia piena di soddisfazioni perché saremo in sintonia con questi sette valori le sette aspetti e funzioni della vita e vivendoli alla loro vibrazione più alta quella archetipica che è rappresentata da quei sette simboli la freccia rossa per la volontà il tondo blu per l'amore la stella tre punte verdi per l'intelligenza il simbolo del fiore della vita che è questo tondo con dentro una specie di reticolo fatto da tanti cerchi più piccoli e poi la stella cinque punte della conoscenza e ancora la spirale dell'ideale perché ci dà la spinta come una molla sapete come una molla dell'orologio sono fatte proprio così e comprimendosi ed espandendosi gli orologi che sono un punto ancora meccanici fanno andare avanti gli ingranaggi e quindi le lancette sono proprio delle mollicine piccoline fatte a spirale tutte le molle sono fatte a spirale e quindi vuol dire che la molla ci dà una spinta e così è l'ideale l'ideale ci spinge o se vogliamo vederlo dal punto di vista dell'ideale ci aspira ci aspira a sé e quindi a diventare quel modello di ideale è molto importante l'ideale perché assieme alla volontà io a volte dico che l'ideale è il carburante della volontà vuol dire che la volontà ci dà la direzione e non la perdiamo più ma l'ideale messo su quella punta della freccia della volontà ci aspira cioè ci attira ad arrivare alla meta quindi in fondo a quella freccia e dunque al raggiungimento di quello scopo della volontà come vedete sono tutti collegati questi sette aspetti tra di loro perché la volontà senza l'amore diventa qualche cosa che ci fa andare dritti per la nostra strada ma senza vedere nessun altro dritti e se c'è qualcuno che ci viene incontro o che ci vuole frapporre un ostacolo gli diamo uno spintone magari per continuare ad andare dritti invece l'amore aggiunge a quella volontà il fatto che dobbiamo anche renderci conto che non ci siamo solo noi e che quindi abbiamo anche gli altri intorno e magari qualcuno che ci taglia la strada può succedere però con l'amore noi allarghiamo ecco il tondo blu dell'amore allarghiamo la nostra sfera affettiva ma anche quella di comprensione e quindi di ascolto e di accettazione degli altri ed è questo che ci fa progredire sì dritti con la volontà ma anche attenti agli altri pensate a un autista sulla macchina che guida dritto per la strada ma se vede qualcuno che attraversa la strada non si ferma gli va addosso perché deve andare dritto io ho la volontà che devo continuare dritto per la mia strada invece l'amore ci dice no attenzione che quell'altro è come te se lo metti sotto non è una bella cosa no e quindi ecco l'amore ci fa allargare quella visione che la volontà ci da ci da dritta ma dentro a quella sfera dell'amore che ci fa considerare tutti gli altri è poveretto non lo posso mettere sotto no che male mi ha fatto nessuno ecco e così l'intelligenza che cosa fa beh mi fa unire la volontà all'amore e mi fa vedere ad esempio in un itinerario dall'inizio alla fine che ci possono essere delle tappe in mezzo cioè l'intelligenza unisce i punti sul percorso della volontà e quindi crea una sequenza che può essere o dritta o magari anche a zig zag però che segue sempre quella direzione della volontà dunque attraverso l'intelligenza io vedo il disegno che quella volontà mi dà solo come direzione ecco quel disegno di quello che voglio fare ovviamente ma che nella sfera anche dell'amore comprende che io ad esempio posso collegare dei punti e ad esempio avere bisogno di altre persone che collaborino o collaborano con me ecco che cosa fa l'intelligenza mi fa vedere unendo i punti e quindi su un itinerario qual è il modo più efficace e anche più economico di arrivare alla meta più economico perché perché segue la linea di minor resistenza si chiama così cioè ad esempio faccio un percorso per autostrada e non magari per delle strade di campagna ecco questa è la linea di minor resistenza c'è meno resistenza sull'autostrada perché vado più veloce e se mi dovessi seguire una vecchia statale che magari in montagna fa tutti i tornanti eccetera ci impiegherei tanto di più attraverso l'intelligenza noi possiamo scegliere qual è il percorso più veloce o a seconda di quello che dobbiamo fare migliore se magari vogliamo goderci il paesaggio allora non ci interessa arrivare subito in fretta e potremmo anche scegliere un percorso che magari è più tortuoso ma ci consente di vedere dei paesaggi inaspettati o che noi non conoscevamo quindi vedete l'intelligenza ci può far compiere delle scelte secondo le priorità che noi abbiamo dentro di noi e che vogliamo concretizzare ecco allora abbiamo visto solo i primi tre aspetti di questa sequenza delle principali attività della vita principali ma ora e sono quelle tre rosso blu verde che sono in alto ma ora vediamo anche quelle quattro gialla arancione azzurra e violetta che sono in basso non a caso quelle tre volontà amore intelligenza sono come dire i tre cavalli che tirano avanti tutto il cocchio ecco tutto il carro ma quei quattro che seguono sono importanti perché aiutano a svolgere meglio quelle tre funzioni principali di quei tre cavalli che tirano il carro la volontà l'amore e l'intelligenza e allora vediamoli quel giallo armonia che vedete è armonia relazione o allora qui arriviamo al punto in cui dopo che abbiamo messo la volontà l'amore l'intelligenza dobbiamo riuscire a creare delle relazioni armoniche cosa vuol dire che non siano conflittuali molto semplice no e quindi le relazioni armoniche sono quelle che ci producono un benessere pensiamo alla cerchia degli amici cosa faremmo se la nostra cerchia fosse fatta di amici con cui continuamente entriamo in conflitto beh non sarebbero più amici questo a volte ci succede proprio ad esempio all'interno della famiglia no perché le relazioni i rapporti tra i genitori nostri fratelli e sorelle e noi non sono delle più facili assolutamente no lo sappiamo e dunque questa funzione con il simbolo dell'armonia che quel tondo quel cerchio con dentro tutti quegli sti cerchi che intrecciano tra di loro le relazioni e i rapporti ci fa comprendere che noi dobbiamo mettere tutto l'impegno per trovare non solo entro la nostra famiglia ma anche al di fuori nella cerchia dei nostri affetti delle nostre conoscenze quei punti di incontro che sono i punti in cui quei cerchi del fiore della vita si intrecciano che ci permettono di comunicare in un modo congruo cioè in un modo migliore in un modo efficace in modo che si crei sinergia cioè cooperazione e anche solidarietà quindi vedete com'è importante questo quarto aspetto del settenario creativo si chiama cioè delle sette funzioni creative della vita quello dell'armonia e della relazione è molto importante perché ci aiuta a mettere insieme la volontà l'amore l'intelligenza intrecciando vedete questo gesto delle mie mani intrenciando questi tre aspetti tra di loro e quindi nelle nostre relazioni riuscire a creare a creare ah che bello quell'amicizia in cui ognuno aiuta l'altro oppure in una discussione siamo lì no che stiamo ognuno mettendo il suo punto di vista e riusciamo a mettere insieme i vari punti di vista e quindi creare un disegno completo che comprende tutti i punti di vista che è bello e così potremmo avere come dire una forma di quella cosa di quello scopo che vogliamo fare con tutti quei punti di vista che la rendono migliore pensate se in politica riuscissero i politici invece che combattersi continuamente tra di loro la politica è proprio un'attività di conflitto è ormai diventata così mamma mia non se ne può più lo so che a voi interessa un po meno però siete coinvolti anche voi poi magari indirettamente perché poi quello che succede in italia e nelle varie attività parte tutto dalla politica perché sapete una cosa che non vi ho detto è che quel primo aspetto archetipo della volontà è proprio quello che da il via che quindi governa possiamo dire così no proprio come qualità la politica ebbene sì la politica è proprio governata dall'aspetto volontà perché infatti dovrebbero dovrebbero i politici dare la direzione a tutta la nazione a tutta la nazione e nel governo di una nazione appunto i ministri e tutti quelli che si occupano nei vari partiti dovrebbero avere questo aspetto principale ok quindi quello proprio come compito di dare la direzione migliore alla nazione quindi vedete come queste sette qualità della vita che sono le funzioni che sono gli archetipi eccetera ci aiutano a vivere nel modo migliore se li seguiamo e cioè se eleviamo tutti quei degradi che da loro derivano alla vibrazione alla vibrazione alla frequenza originale di quei valori e allora passiamo quello arancione a quello della conoscenza che assieme a tutti gli altri che cosa ci dà in più beh ci dà la misura c'è scritto anche lì vedete la misura perché conoscere pensiamo alla scienza significa saper misurare tutto e quando dico tutto è proprio tutto pensate che per uno scienziato se non può misurare tutti i passaggi di qualche cosa che è stato inventato quindi di un esperimento che lui deve poter riprodurre altrimenti non è scientifico deve poter misurare avere la sequenza intelligente di tutta la procedura e poi poter misurare tutti i passaggi perché sia quella cosa inventata sia esatta e reale dal punto di vista scientifico quindi la conoscenza è importantissima ed è proprio quella stella a cinque punte perché vi ho detto l'altra volta che quella stella a cinque punte è costruita con dei rapporti particolari vi ho parlato anche del rettangolo aureo o della proporzione aurea che è la proporzione più bella che quando noi vediamo qualche cosa che è costruito in quella proporzione diciamo che bello perché rispecchia quel rapporto in cui è costruito tutto l'universo e anche tutta la natura vi ho già detto i fiori, le piante, noi, i nostri corpi siamo tutti, sono tutti costruiti secondo la proporzione aurea e quella stella è proprio il simbolo di quella proporzione vuol dire che il lato della stella ciascuno dei lati della stella sta in una proporzione particolare rispetto al pentagono immaginario iscritto al centro della stella voi vedete che potete disegnare un pentagono che ha il solito di cinque lati regolari, cioè tutti uguali dentro proprio alla stella ebbene, se noi andiamo a misurare il lato di quel pentagono e il lato della stella uno dei lati della stella andremo a vedere che quella proporzione è di 1,618 questo è un numero magico perché è il numero del segmento aureo perché quel 1,618 Pitagora Pitagora ce l'ha insegnato perché ha scoperto questa proporzione chissà chi prima di lui crea un segmento cosa vuol dire 1,618? vuol dire 1,6 ma 1,6 è un poco di più che 1,5 ma 1,5 vuol dire una volta e mezzo 1 e mezzo 1,5 quindi se è 1,6 e 18 vuol dire che è un po' più di una volta e mezzo e questo 1,618 se noi andiamo a disegnare un segmento di quella misura rispetto all'intero andiamo a prendere 1,618 di un segmento intero che misura 10 allora andremo a prendere 5 la metà di 10 quindi sarebbe 6,618 quindi un po' più di quella metà che è aggiunto a quell'intero fa 1, ecco l'intero è 1 e quel virgola è quella un po' più della metà di quell'intero che viene aggiunto e così si crea un segmento sul quale possiamo costruire un rettangolo con quel segmento di base e in quel rettangolo possiamo andare a iscrivere una curva ed è così che ad esempio viene la natura crea il nautilus che è quella conchiglia fatta a spirale ma è una spirale appunto logaritmica si dice cioè costruita secondo la progressione aurea pensate la natura ma che ne sa la natura di geometria evidentemente si vuol dire che la natura ha la volontà l'amore e l'intelligenza e poi c'è anche l'armonia e la conoscenza per riuscire a costruire tutte le forme di natura in proporzione aurea noi l'abbiamo scoperto noi uomini che sono costruite seguendo quella proporzione ma la natura lo sapeva già madre natura quindi vuol dire che c'è un'intelligenza superiore a quella umana che fa sì che quando un alberello un seme spunta come germoglio e crea un alberello lo fa seguendo la proporzione aurea nella dimensione delle foglie nella disposizione dei rami è così andate a vedere su internet se non ci credete se non credete a me andate e scrivete proporzione aurea e andate a vedere quanti bei video che ci sono che vi spiegano come è fatta ma tutto è costruito così in natura e gli architetti più famosi ovviamente che fanno costruiscono i loro edifici in quella proporzione e anche i pittori e anche gli artisti che hanno questo tipo di conoscenza possono metterla a frutto costruendo quando dipingono i loro quadri mantenendo quelle proporzioni addirittura i cubisti sapete quelli che disegnavano fanno parte dell'astrattismo ecco un po' di cultura non ci fa male e quindi quei quadri astratti ce n'erano alcuni che disegnavano proprio solo i quadrati e i rettangoli ed erano tutti in proporzione aurea magari più in là preparo anche queste cose che quando ritorneremo su questa proporzione aurea vi farò vedere appunto queste forme ma voi siete così bravi ormai sullo smartphone andare a digitare proporzione aurea poi dopo gli artisti che applicano la proporzione aurea gli architetti veramente siete voi che insegnate a noi come utilizzare uno smartphone o come andare su internet ecco e quindi basta che abbiate la curiosità e io sono qui proprio per farvi incuriosire con le informazioni che ogni tanto metto dentro e cerco di renderle comprensibili anche a tutti voi dai 12 ai 25 anni mi interessano anche quelli dai 11 12 fino ai 16 17 anni perché magari non avete mai sentito parlare della proporzione aurea a scuola magari i vostri maestri i vostri insegnanti i vostri professori non ve l'hanno mai detto oppure sì magari chattatevelo e mandatevi nelle chat se non qui in trasmissione per sapere farmi conoscere se sì la conoscete ve ne hanno parlato perché è importantissima quando noi costruiamo le nostre cose con quella proporzione ci vengono bene bene e cioè rispecchino l'armonia dell'universo l'armonia della natura questo fa la proporzione aria e questo fa la conoscenza quindi vedete com'è importante assieme alla volontà l'amore l'intelligenza e l'armonia ma adesso vediamo l'ideale questa spirale color azzurro turchese allora abbiamo già detto della molla ma a che cosa serve l'ideale è importantissimo vi ho anche già detto prima che è il carburante della volontà quindi ci dà la spinta ma ha una funzione ancora più importante se possiamo dire che l'ideale gli ideali ci servono come modelli come modelli proprio come un pittore o un fotografo che vuole andare a fotografare e ha bisogno di andare a fotografare dei miei modelli il pittore che vuole disegnare una figura umana ad esempio una bella donna un bel uomo nudi sapete nella classicità quante statue erano di uomini e donne nudi perché si voleva proprio esaltare il corpo di un essere umano che è così ben proporzionato quando i corpi sono ben proporzionati da farci dire che è bello e quando sono ben proporzionati perché sono in proporzione aurea attenzione tutti i corpi sono costruiti in proporzione aurea ma certo che se siamo troppo magri o troppo grassi le proporzioni rimangono ma le forme cambiano quindi il modello ci aiuta a mantenere una forma perfetta infatti non è un caso che i modelli di riferimento cioè quei modelli a cui i giovani in genere tendono sono quelli del fitness quindi di uomini e donne che fanno ginnastica e mantengono un bel fisico piace a tutti uomini e donne ragazzi e ragazze vedere una bella ragazza o un bel ragazzo armonioso quindi con un fisico in salute i muscoli belli temprati e le ragazze con le loro curve a posto o no? certo ma quindi tutto questo è dovuto all'ideale perché se non c'è un ideale cioè un modello di riferimento a cui io voglio tendere cioè io voglio diventare quello non saremo tutti lì a fare andare in palestra per restare in linea perché abbiamo visto quei bei modelli dei belli attori o delle belle attrici o degli atleti anche perché ci sono degli atleti che hanno dei corpi fantastici e quindi per noi sono dei modelli di riferimento o io voglio avere il corpo come quello lì io voglio avere il corpo come quella bella attrice o come quell'atleta che riesce a correre così velocemente che riesce a saltare in alto eccetera o giocare a palla a volo avete visto adesso la nazionale femminile fortissima belle alte bionde brune di pelle chiara o anche di pelle scura perché ce ne sono anche alcune che sono appunto afro italiane o afro americane insomma che però sono italiane nella nazionale di pallavolo perché è lo sport ragazzi siamo tutti quanti ci piace il calcio la pallacanessa la pallavolo sono quegli sport di squadra che ci fanno comprendere com'è bello quando si gioca insieme la squadra vuol dire proprio questo fare squadra vuol dire diventare più forti no e poter raggiungere dei risultati migliori quindi vedete è tutto collegato ma cosa ci serve tutto questo senza l'ordine attenzione non l'ordine imposto perché in genere ai giovani ribelli come me non piace l'ordine imposto no ma l'ordine è soprattutto ritmo ritmo è quell'ordine che ci fa danzare a tempo a tempo di un oddio i balli che vanno adesso non lo so ma comunque anche nei balli da discoteca e tumpe tumpe perché è un ritmo un po' ossessivo però li ballo anch'io ogni tanto ma li ballo anch'io ma ci sono anche degli altri ritmi ad esempio quelli dell'America Latina samba calypso tutti quei ritmi salsa merengue ecco mi venivano in mente ma che ballo anch'io mi piacciono tantissimo che ci fanno muovere e quindi ci fanno muovere in modo ordinato noi diciamo se uno non va a ritmo diciamo guarda quello non sa neanche ballare oppure quando cantiamo se perdiamo il ritmo della canzone non riusciamo a cantare bene quella canzone perché non stiamo a ritmo perché la musica è tutta ritmata c'è un tempo ben preciso ecco che cos'è l'ordine il ritmo e allora quando noi mettiamo il ritmo giusto nella vita che può essere anche lento oppure un pochino accelerato oppure veloce ma quello lo dobbiamo stabilire noi in una canzone il ritmo può cambiare magari parte con un certo ritmo Lucio Battisti che qualcuno di voi lo so era il mio cantante preferito negli anni 60-70 per voi Mattusalemme ma ancora le canzoni però ci sono come no emozioni insomma sì emozioni era la mia preferita chiamale se vuoi emozioni ecco ebbene Battisti Lucio Battisti era un cantautore anche musicista molto bravo a cambiare in una canzone il ritmo ad esempio Balla Linda Balla Linda Balla come sai a un certo punto passa da un ritmo a quattro quarti un, due, tre, quattro un, due, tre, quattro questo è il ritmo quattro quarti a un waltzer che è un tre terzi un, due, tre un, due, tre un, due, tre e lui quando fa Balla Linda Balla come sai è un waltzer un, due, tre e poi ritorna al quattro quarti adesso non mi ricordo neanche più le parole ma andate a risentirvela ad esempio era molto bravo a fare questo ma quanti cantanti e musicisti che in un pezzo musicale cambiano il ritmo il ritmo si può cambiare certo ma quando si è in quel ritmo per quanto è la durata di quel ritmo bisogna stare a tempo quindi l'ordine ci porta proprio a quel giusto ritmo a secondo della situazione in cui ci troviamo vi faccio un esempio adesso qui io sto parlando e alterno a dei ritmi di parole più veloci a un ritmo di parole più lento ve ne sarete accorti quando sto descrivendo qualche cosa posso anche andare veloce ma quando voglio portare la vostra attenzione su un concetto particolare rallento la velocità delle mie parole faccio una pausa e poi dico come se fosse una frase un mantra i mantra sono dei comandi che noi diamo a noi stessi ma anche possiamo darli agli altri e dipendono tutti dal ritmo ecco vedete adesso ho fatto una pausa perché quando si fa una pausa si attira l'attenzione ci si aspetta qualche cosa dopo la pausa ecco perché la musica ha un ritmo ed è così importante il ritmo perché è fatta di note cioè di suoni ma anche di pause tra un suono e l'altro se non ci fossero le pause il suono sarebbe tutto senza modulazione senza frequenza ecco che allora le pause ci servono per creare un'aspettativa su ciò che poi la voce il suono le parole ci diranno dunque sapere usare bene il ritmo è importantissimo e quindi l'ordine del ritmo è importantissimo per avere attenzione riuscire a far bene le cose riuscire a cambiare ritmo ad esempio durante la settimana siamo molto faccendati o anche voi ecco ad esempio cambiare ritmo vi fa bene stare tutto il giorno con lo smartphone in mano a chattare diventa un ritmo troppo monotono troppo uguale e il troppo storpia come si dice famoso proverbio quindi allora cambiare ritmo e cioè faccio un po' di chat magari scrivo altre cose e poi faccio una passeggiata o faccio altro vado in palestra ma non è che quando vado in palestra continuo a chattare perché altrimenti non cambio il ritmo e la canzone diventa monotona ho fatto una metafora e ne siete accorti la canzone diventa monotona vuol dire che quella vostra attività se continuamente state chattando in tutte le varie attività che fate in una giornata non c'è un cambio di ritmo e diventa un ritmo ossessivo che vi crea una vera e propria ossessione eh sì l'ossessione è qualche cosa che diventa ripetitivo 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 o si diventa matti quando l'ossessione diventa troppo ripetitiva si diventa matti cioè veramente attenzione ad esempio io so di ci sono dei giovani che stanno ore e ore e ore davanti al computer i gamers che però sono fanatici ecco qua il degrado del ritmo ma che diventa un degrado sempre che fa stare magari ore ore e ore a giocare davanti al computer a un game o davanti a una console una playstation eccetera ecco e non riescono a staccarsi da lì per cui devono andare dallo psicologo devono andare è diventata una malattia perché non riescono a cambiare il ritmo diventano monotoni c'è un nome per questo pignoli la pignoleria è un'attività metodica fine a se stessa cioè entrano in un loop e non riescono più a uscire da quel loop sono condizionati dal ritmo ossessivo ma il fanatismo ma il fanatismo di quel ritmo ossessivo è dato c'è una causa superiore cioè maggiore di quella che crea anche un ritmo ossessivo ma è dato da un ideale sbagliato o sovrastimato perché è il modello di riferimento se io come modello di riferimento ho un giocatore che gioca tutto al giorno a qualche cosa è chiaro che poi mi porta a diventare ossessivo nel ritmo ma la causa di quello è il modello sbagliato quindi se io prendo un modello cioè un personaggio una persona no prendiamo anche appunto i testimonial ok che hanno tanti followers benissimo la Ferragni ad esempio che è una brava persona come no ma se io voglio imitare la Ferragni e tutto il giorno sto a chattare o a mettere le mie immagini su Instagram su TikTok eccetera perché voglio diventare come la Ferragni cioè voglio farmi vedere ecco quello diventa un modello un ideale che diventa fanatico io divento un fanatico della Ferragni e questo non va bene perché è un degrado di quel modello ideale dunque attenzione perché voi giovani soprattutto ma non solo i giovani siccome avete questa spinta vitale e avete bisogno di modelli eccome no facciamo tutto attraverso i modelli sapete quando siamo piccoli è il modello dei nostri genitori quando siamo più grandi nell'adolescenza incominci a diventare il modello di quello che è più figo oppure di questi testimonial cavolo che sono continuamente in tv si parla continuamente nei social e diventano dei modelli da imitare ma attenzione al ritmo ecco vedete come l'ideale è il ritmo oh giocano bene insieme attenzione a non prendere un ritmo ossessivo e quindi diventare fanatici come quelli che sono fanatici del calcio i fanatici religiosi ci sono anche quelli pensate i terroristi dell'isis quelli che nel terrorismo islamico uccidono guardiamo in Iran avrete visto avrete saputo di quella donna che siccome non portava il velo ormai è passato un anno il velo come doveva essere portato secondo la religione lì iranica è stata uccisa e quelli che l'hanno uccisa è perché hanno un ideale fanatico cioè oltre la normale tendenza a diventare quel modello e quindi diventa un ritmo ossessivo ad esempio il poliziotto che deve andare a vedere se in Iran se tutte le donne portano il velo come deve essere portato entra in un ritmo ossessivo perché guarda solo quello comprendete quindi vedete io vi sto facendo una panoramica di queste sette funzioni della vita volontà amore intelligenza armonia conoscenza ideale e ordine dove in questo momento l'ideale e l'ordine hanno un ruolo importantissimo tutte ce l'hanno ma in questo momento dell'umanità in questo momento presente gli ideali e il ritmo che è connesso a quegli ideali dobbiamo stare molto attenti che non diventino mai ossessivi troppo ossessivi i modelli che noi prendiamo e quanto seguiamo quei modelli ci possono creare una grande ossessione e quindi problematiche disagi malattie malattie ora quanto tempo è passato ah però 44 minuti oh il tempo veramente scorre in modo inesorabile cioè basta che non ce ne accorgiamo che non me ne accorgo soprattutto mamma mia volevo fare una trasmissione un po' più corta e non vi ho ancora parlato dei disagi del secondo aspetto cioè dell'amore andiamo a vederli un attimo allora in questo ultimo quarto d'ora dunque amore e unione solo o isolato eh sono entrambi dei disagi certo oddio aspettate che ho fatto una roba strana eccolo qua devo stare attento anch'io eh perché appena tocco qualche cosa oddio posso creare e adesso eccolo qui ah l'ho riportato a posto devo stare attentissimo perché altrimenti sposto i riquadri qui della mia regia e oddio va bene eh quindi attenzione a spostare lì io dovevo spostare in alto e vabbè eh questo fa parte del gioco eh dunque amore unione solo o isolato come mi sento e qui abbiamo messo dei degradi cioè dei comportamenti che in genere ci fanno vi fanno star male mi sento solo e si può mettere la spunta eh questo è un questionario creato proprio poi lo vedrete poi su animaribelle.org che è un sito che adesso è in costruzione ma fra qualche giorno ci sarà quindi animaribelle.org poi la prossima volta ve lo farò vedere eccetera eccetera allora rimaniamo su eh l'archetipo di amore e quindi mi sento solo se è così posso mettere la spunta oppure escluso eh certo perché magari anche col bullismo a volte anzi col bullismo mi escludono da quella cerchia mi escludono dal gruppo di amici perché perché mi vogliono far sentire sono diverso mi considerano diverso il terzo è rifiutato ancora peggio siccome sei diverso ti rifiuto non ti voglio non ti voglio all'interno del nostro gruppo di amici no sì troppo diverso io mi sento escluso ma mi posso sentire anche rifiutato dagli altri e poi c'è isolato certo perché quando mi escludo sono escludo escluso beh mi isolo o mi isolano o mi isolo io stesso perché a forza di sentirmi escluso e rifiutato voglio stare per i fatti miei dunque vedete poi come sono concatenati cioè collegati tutti questi disagi poi però posso diventare anche possessivo e sì perché se non ricevo amore e non vengo riconosciuto allora quando ho qualche cosa magari una ragazza o un ragazzo se sono una ragazza o anche ragazzi e ragazzi e ragazze e ragazze ecco per non escludere nessuna tipologia allora io voglio possederla ah sei mio sei mia e non devi essere di nessun altro anche questo se è vissuto appunto in un modo in un ritmo ossessivo vedete come l'ordine c'entra sempre nel modo in cui noi viviamo le cose cioè il ritmo c'entra sempre no non può diventare un possesso ossessivo e cioè che io continuo perché da lì viene anche il controllo perché quando voglio possedere voglio anche controllare e questo vale per tutto le persone le cose eccetera lo capite da soli no ma anche egoista e beh sì gli altri non mi vogliono ah va bene allora io non ho bisogno degli altri e penso solo a me ecco qua come nasce l'egoista sono tutte sofferenze sono tutti degradi della vibrazione dell'archedipo di amore che vibra la sua vibrazione più veloce più alta e dopo l'egoista l'invidioso sì perché se gli altri non mi vogliono e io vedo quelli che sono in quel gruppo di amici in cui io vorrei essere incomincio a avere invidia per loro perché loro sì e io no mi escludono perché sono invidioso di qualche cosa che non ho in genere siamo invidiosi di qualche cosa che hanno gli altri e che noi vorremmo avere poi divento anche geloso è certo perché posso essere geloso con il possesso dell'attenzione degli altri e magari la mia ragazza o il mio ragazzo non mi danno quella dovuta attenzione o guardano ogni tanto magari guardano qualche di un altro e no e sono geloso devi guardare solo me devi stare solo con me devo essere io il centro della tua attenzione sempre ecco qui ancora il ritmo vedete come l'ordine ritmico entra in tutti gli altri eh sì perché quando il ritmo diventa ossessivo solo devi guardare solo me devi fare solo quello subentra la gelosia il controllo e poi c'è il dispettoso eh sì perché ah allora ti faccio dispetto siccome non riesco a controllarti allora divento dispettoso ti faccio i dispetti ti metto i bastoni tra le ruote ti metto degli ostacoli ti creo degli ostacoli il dispettoso fa questo ma l'ultimo l'ultimo è il più grave di tutti il disperato sì il disperato il disperato ha perso ogni speranza il disperato non vede più una via di uscita non vede più una via non solo di uscita non vede proprio la via da percorrere il disperato è tutto quello è solo escluso rifiutato isolato possessivo egoista invidioso geloso dispettoso e quindi disperato il massimo degrado di quel valore dell'amore non c'è più l'amore lì dentro è tutto imprigionato dentro di noi dentro di te se sei disperato disperata ma c'è sempre un modo di uscire dalla disperazione quello di il modello ecco qua il sesto archetipo il sesto valore di ideale quello di cambiare il modello devo vedere a un modello di speranza devo tendere a un modello o di persona ma anche di idea di desiderio o di aspirazione che sia più elevato di quello a cui mi sono legato e attaccato perché quel modello a cui mi sono legato mi sta portando così in basso da sentirmi disperato disperata senza più una prospettiva di vita quindi non c'è più la cerchia di amore non c'è più la direzione non riesco più a mettere insieme i punti per avere una visione intelligente non riesco a intrecciare dei buoni rapporti appunto perché mi sento escluso e non riesco nemmeno a conoscere cioè a misurare nemmeno il mio stato perché quando sono disperato non riesco nemmeno a misurare lo stato in cui sono e a trovare qualche cosa per migliorarlo dunque quell'ideale deve essere elevato affinché quel ritmo ossessivo che mi porta nella disperazione poi la disperazione ci può fare degli atti insensati oppure stare nell'apatia cioè non facciamo più niente sono disperato sto in apatia lì come uno zombie non riesco più a pensare non riesco più a mangiare non riesco più a fare niente ecco anche qui mancanza di ritmo vedete allora quando riuscite bene ad avere la visione generale di queste di questi sette valori di queste sette funzioni della vita che creano una sequenza una procedura perfetta per vivere bene allora sapete già che andrete in un disagio che vivrete un disagio in uno di questi sette o più di uno di questi sette per quello che il questionario può prevedere che mettiate la spunta su non solo più voci di uno stesso valore rosso blu verde giallo arancione turchese e violetto ma magari anche su non solo uno di quei valori certo poi però ci indica può indicare a chi sa poi gestire il vostro disagio può fare avere un quadro del vostro star male è importante per voi anche quando vi rivolgete ad esempio lo psicologo oppure a noi di anima ribelle che abbiamo un nostro metodo proprio basato sui valori basato sugli archetipi basato sulle sette qualità della vita che poi intrecciandosi tra di loro formano tanti altri valori per aiutarvi a uscire dal vostro disagio dal tuo disagio perché io sto parlando a voi ma a ciascuno di voi ragazzi che avete così tanta voglia di vivere ma che avete anche dei disagi perché la vostra creatività non viene appagata ve l'ho detto l'altra volta tutti i disagi derivano da una causa unica non riuscire a mettere in pratica la vostra creatività non riuscire ad esprimerla non mi stancherò mai di dirlo tutto il nostro nostro di tutta l'umanità star male dipende unicamente anche quei dolori fisici eccetera ma a monte come si dice cioè tutta la causa prima è quella di non essere perfettamente creativi poi allora voi mi poteste dire eh ma allora che ne so quelli che sono molto creativi anche loro non stanno bene 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 perché anche pittori artisti in genere che esprimono la loro creatività eppure possono star male anche loro allora la mia risposta è tutti quanti moriamo e vabbè e quindi prima o poi la morte tra virgolette deve trovare un modo per farci finire questa nostra vita più tardi che possibile va bene ma quando siamo creativi e un conto essere creativi ma oltre che essere creativi per stare proprio bene 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 dobbiamo riuscire a mettere in fila cioè avere nella nostra creatività che tutti questi sette valori siano vissuti nella loro vibrazione più alta cioè attraverso un nostro comportamento che li esalti e li porti a essere espressi dentro di noi alla loro vibrazione archetipica è solo così che noi saremo sani perfettamente sani ma prima di tutto prima di raggiungere questa perfezione di sanezza o di salute dobbiamo incominciare a curare quegli aspetti degradati di questi sette valori sette funzioni della vita ok e tutto avviene per gradi poi quando incominciamo a esprimere la nostra creatività allora li attueremo questa sequenza creativa ancora meglio e quindi comprendete che è tutto un processo per elevare piano piano tutti i nostri comportamenti tutti i nostri umori sentimenti ed emozioni in modo che diventino uso il congiuntivo armonici e quindi portati al grado archetipico cioè al grado di vibrazione più alta possibile bene abbiamo fatto proprio un'ora di trasmissione quindi la prossima volta affronteremo spero beh ogni tanto divago lo so però mi sembra di dire delle cose comunque interessanti allora parleremo del terzo archetipo di intelligenza va bene allora alla prossima mi raccomando sempre qua su anima ribelle l'appuntamento della domenica mattina alle ore 11 ciao ciao a tutti